Produzione ferma all'Ivv, l'industria vetraria valdarnese, da oggi 15 febbraio fino al 31 di maggio. Uno stop dovuto non certo alla mancanza di ordinativi, bensì al caro bollette insopportabile per l'azienda simbolo di San Giovanni Valdarno, che dunque ha spento gli impianti, come aveva annunciato alcune settimane fa il presidente Simone Carresi. Nonostante l'aumento dei prezzi che abbiamo fatto sul nostro listino, che poi sicuramente avrà un impatto sulla domanda, perché chiaramente il consumatore quando vuoi vede un aumento del 20% sappiamo come potrebbe reagire, però pur in presenza di questi aumenti c'è l'impossibilità a queste condizioni di poter proseguire la produzione. Si spera chiaramente che da un lato vi sia un intervento dello Stato, velocemente. Auspichiamo anche che vi sia una diminuzione, chiaramente, nei prossimi mesi del prezzo poi della materia prima, tant'è che noi auspichiamo di riaccendere le impianti a fine maggio, proprio perché le previsioni ci danno una diminuzione poi nei prossimi mesi del prezzo del metano. Negli ultimi tre mesi l'Ivv ha pagato fatture per l'approvvigionamento di energia più che triplicate, passando dai 100.000 euro del trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2020 ai circa 300.000 dello stesso periodo 2021. I primi 20 dipendenti saranno dunque messi in cassa a integrazione a zero ore e poi ruoteranno gli altri 30. Chiediamo sia chiaramente all'ente governo, sia naturalmente alla regione che si è dichiarata disponibile a cercare di trovare nelle pieghe del bilancio, chiaramente che sono ristrettissime, questo chiaramente lo immaginiamo, però un supporto anche alla nostra attività come ha fatto la regione Veneto, per esempio, con le vetterie di Murano che è intervenuta in maniera sostanziosa. Noi richiediamo che ci sia da parte del governo e poi chiaramente del Parlamento un'attenzione per certi versi come è stata per la pandemia, come il Covid, cioè quando sono stati dati dei ristorni, capisco che il bilancio dello Stato, anche questo, sia chiaramente un bilancio difficilmente sostenibile per l'indebitamento che abbiamo, però qui si rischia veramente la perdita di interi comparti, non soltanto di vetterie, ma anche di altri e quindi direi, anziché magari pagare la cassa integrazione, far lavorare le persone perché poi chiaramente lavorando pagano i redditi, non hanno sussidi e insomma, bene o male si crea più un circolo virtuoso.